ciao ragazzi benvenuti a tutti in un nuovo video ragazzi oggi nuovo video nuovo prodotto ragazzi questo è un nuovo inverter inverter off grid allora non fate confusione con inverter in grid e inverter off grid off grid è un inverter ibrido perché questi sono tutti inverter ibridi ragazzi che ti permetteranno di connettere come ti faccio vedere anche da questo schema i due pannelli solari fotovoltaici e la tua utility cioè l'eventuale gruppo elettrogeno esterno o anche la rete esterna il contatore però ragazzi quella porta ok è una porta di solo ingresso l'inverter su quella porta non andrà a rilasciare energia su una comunicazione e non andrai a immettere rete energia per poterla vendere questi inverter non si utilizzano per vendere energia questi sono per creare gli impianti ad isola off grid ok bene alla porta per la batteria e uscita e uscita ingresso perché ovviamente fa sia da carica che poi da scarica quando per esempio la sera non funzionano i pannelli l'energia la vai a prendere dove dalle batterie e poi all'uscita 230 volt come ti faccio vedere qui che ti mostra appunto il ventilatore la tv il computer il frigorifero sì perché ragazzi il climatizzatore sì perché puoi andare ad alimentare proprio proprio tutto questo belli miei è un nuovo modello di inverter potenza buona non è un modello scarso come prestazioni infatti è un 4 kilowatt 500 volt massimo di ingresso mppt cioè i pannelli solari come inverter onda pura sinusoidale 230 volt 3.200 watt ok per c'è un 3 kilowatt e 2 come inverter 4000 watt massimo di ingresso fotovoltaico un bel giocattolino ragazzi ovviamente sempre ibrido sotto alle ventolinea i connettori di innesto queste se vuoi andare a creare un impianto fotovoltaico medio ok di media potenza qui c'è la scheda tecnica con tutte le varie caratteristiche nota mpt regolatore inizia a funzionare da 150 volt perciò sta a significare se i due pannelli connessi tutti in serie danno una tensione per esempio quando passa una nuvola di 100 volt il l'inverter non funzionerà funzionerà dal momento in cui si superano 150 volt ok di ingresso dai pannelli questo ragazzi è anche un dato che i miei inverter hanno in comune sempre della stessa famiglia se non conosci mi inverter ma nel canale voglia vedere il fratello maggiore quello cia belle prestazioni il 5.5 kilowatt ragazzi una belva un mostro assurdo eccoli qua qui va connessi il contatore qui va connesso l'appartamento qui va connessa la batteria e qui va connesso l'impianto solare fotovoltaico come vedi qui c'è anche input break questa è una sorta di reset ecco schiacci quelle si resetta comunque è bello anche esteticamente colore rosso i miei ragazzi sono arancio e neri grabe gli inverter il prezzo di tutto rispetto ragazzi sotto in descrizione di lascia il link troverai il link diretto a questa offerta dello sponsor niente ragazzi ciao belli a tutti al prossimo video continua a seguirmi vedremo prossimamente nuovi video su nuovi prodotti c'è anche un gruppo di accumulo assurdo 15 kilowatt ora pronto all'uso non ti anticipo più nulla iscriviti se non sei iscritto ciao belli al prossimo video